un saluto a tutti sembra che sia giunto il momento di una nuova cerimonia settimanale dei punti vediamo quale casa si trova in vantaggio questa settimana sembra che serpeverde sia in vantaggio draco, credo che avrai la possibilità di entrare nella sala della ricompensa quante volte ci sei entrato, potter? sarai più fortunato la prossima volta poter ehi Harry, qualcosa ha fatto irritare Mirtilla Malcontenta intendi dire più del solito? ho sentito i suoi lamenti fin dalla scalinata principale il corridoio fuori dal suo bagno è di nuovo allagato non starai pensando che c'è stato un altro attentato, vero? potrebbe essere successo di tutto coraggio, andiamo a vedere ti interessa fare qualche scambio? ti interessa fare qualche scambio? coraggio, Harry coraggio, Harry è vero? buon rates chi è? siete venuti a scaraventarmi addosso qualche altra cosa? qualcuno ti ha lanciato addosso qualcosa? sì, eccolo lì attento, mio padre mi ha detto che alcuni libri possono essere molto pericolosi sembra un vecchio diario, appartenuto a T.O. Riddell chiunque fosse non ci ha mai scritto niente, le pagine sono completamente bianche ciao Harry Potter il mio nome è Tom Riddell sono a Hogwarts e stanno accadendo cose orribili sai niente della camera dei segreti? certo che so della camera dei segreti quando frequentavo il quinto anno la camera venne aperta e il mostro uccise una ragazza io ho preso la persona che aveva aperto la camera e questa fu espulsa posso fartelo vedere se vuoi posso portarti dentro al mio ricordo della notte in cui presi il colpevole Harry rimase ipnotizzato dal ricordo che Tom Riddell gli fece vedere dai tocca andare via di qui andiamo su nella scatola calma calma ecco tieni buonasera Rubeus Tom cosa ci sei venuto a fare qua giù? è finita non penso che tu volessi uccidere nessuno ma i mostri non possono diventare animali domestici non ha ammazzato nessuno coraggio il minimo che Hogwarts possa fare è assicurarsi che la cosa che ha ucciso quella ragazza sia fatta fuori ma non è stato lui non è capace non lo farebbe mai fatti da parte nooo Harry aveva sempre saputo dell'incresciosa simpatia di Hagrid per le creature grandi e mostruose ma al tempo stesso era sicuro che Hagrid non avrebbe mai potuto uccidere nessuno riddle potrebbe aver preso la persona sbagliata forse quello che aggrediva le persone era un altro mostro ma quanti mostri pezzi che ci siano in questo posto? abbiamo sempre saputo che Hagrid è stato espulso e gli attentati devono essere finiti proprio dopo che lui è stato sbattuto fuori altrimenti Riddle non sarebbe stato premiato il diario di Riddle non c'è più cosa? ma soltanto un grifondoro può averlo rubato nessun altro conosce la nostra parola d'ordine proprio così uccidere adesso fare a pezzi di squartare la voce l'ho sentita di nuovo e voi? io non ho sentito niente Harry penso proprio di aver capito una cosa devo andare in biblioteca ma la professoressa Meggranit ha detto che dobbiamo rimanere qui a meno che non stiamo a lezione e io devo andare a parlare con Hagrid se l'ultima volta liberato il mostro saprà bene come entrare nella camera dei segreti la capanna di Hagrid si trova nel parco Harry ma scommetto che lo sai già seguimi Harry! la 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 Grazie a tutti. Ssh! Ho appena visto qualcuno che sembrava Lucius Malfoy entrare nella capanna di Hagrid. Brutta faccenda, Hagrid. Bruttissima faccenda. Quattro aggressioni a figli di gente comune. Si è passato ogni limite. In qualità di presidente dei consiglieri della scuola, sono costretto a intervenire e a mandarti via. Via? Via dove? Non nella prigione dei maghi! Non ad Azkaban! Temo proprio di sì. Una cosa molto spiacevole, Silente. Tutti e dodici consiglieri ritengono che sia arrivato il momento che lei si faccia da parte. Da questo momento, lei è sospeso dal ruolo di preside di Hogwarts. Se i consiglieri vogliono la mia rimozione, Lucius, naturalmente mi farò da parte. No! In ogni caso, lei si accorgerà che io avrò veramente lasciato la scuola soltanto quando non ci sarà più nessuno che mi sia fedele. E si accorgerà anche che Hogwarts, che chiede aiuto, lo trova sempre. Chi ha voglia di trovare qualcosa, deve seguire i ragni. Questo lo porterà sulla pista giusta. Questa è la chiave di tutto. Non ho altro da dire. Adesso muoviti, Hagrid. E va bene, vengo. Ora sì che siamo nei guai. Senza Silente ci sarà un attentato al giorno. Guarda! Laggiù! Sembra che siano diretti verso la foresta proibita. È troppo alto. Non posso arrampicarmi. Ti aiuto io, Harry. Dovrei affrontare la foresta proibita da solo. Buona fortuna, Harry. Lumos! Gomposus! Bifindo! Gomposus! Gomposus! Bifindo! 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 Diffindo! Flippendo! 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 BOSUS! LIVENDO! 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 ALO MORA! LIVENDO! 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 Diffindo! Diffindo! Vivendo! Diffindo! 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 in i u u u u u Allo Amora 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 Grazie, adesso devo proprio andare Non credo proprio, non posso certo negare ai miei figli il piacere della carne fresca Addio Amora Addio Amico di Hagrid Vi finito, vi finito RICTU SEMPRA 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 SEMPRA RICTU SEMPRA RICTU SEMPRA RICTU SEMPRA RICTU SEMPRA